Buongiorno, sono Anna Rita e questa mattina stiamo per effettuare lo stick glicemico. Allora, prima di effettuare questo esame facciamo il lavaggio antisepsi delle mani. Dopodiché andiamo a indossare i guanti. Una volta indossati i guanti prepariamo quello che ci occorre. In questo caso il glucometro, strisce reattive, punci dito, disinfettante, irreniforme con delle garzine e airbox. Ci avviciniamo in stanza, salutiamo il paziente, buongiorno, dobbiamo fare lo stick glicemico. Come ti chiami? Rossella. Ok, non ti faccio male, stai tranquilla, dobbiamo fare soltanto un punto. Dopodiché disinfettiamo il dito del paziente. Una volta disinfettato il dito, attendiamo che il disinfettante evapora e prepariamo il glucometro. Prendiamo la stricetta, la inseriamo. Attendiamo un attimo, togliamo la protezione e perpendicolare, punciamo. Puliamo la prima goccia di sangue, dopodiché mettiamo la garzina con il disinfettante sul dito del paziente e attendiamo il risultato. Il risultato è certo. Dopodiché riordiniamo tutto, buttiamo tutto, rimettiamo tutto sul carrello, salutiamo la paziente e andiamo.